Tre location, facciamo quattro, per una sola grande festa, quella di Capodanno, per la quale Fano offre davvero un'ampia scelta. Dalla musica in piazza 20 Settembre a Cenerentola in versione musical al Teatro della Fortuna Grazia Arancia Verde Blu, la divisione della Compagnia dell'Arancia dedicata a bambini e ragazzi. Tutto questo senza dimenticare lo spettacolo comico del San Costanzo Show al Cinema Politeama. E dopo il Natale chiaramente arriva il Capodanno e quindi noi come Proloco in collaborazione col Comune stiamo cercando di organizzare al meglio l'evento che si farà in piazza. In piazza ci sarà l'orchestra dei best of per quanto riguarda l'animazione e anche i festeggiamenti che poi verranno fatti con tutti i cittadini che avranno piacere di partecipare, col classico brindisi di mezzanotte e con poi un po' di ballo che verrà fatto chiaramente successivamente alla mezzanotte. Dai Bee Gees a Lady Gaga, passando per Lucio Battisti e Patti Bravo. Tra le oltre 120 canzoni in scaletta dei grandi artisti di ieri e di oggi non mancherà proprio nessuno. Percorreremo un viaggio musicale dagli anni 60 fino ai giorni nostri e toccheremo i più grandi successi italiani, stranieri, diciamo di questi tempi, con una sorpresina in più che abbiamo preparato per il Capodanno perché quest'anno in occasione della mezzanotte insomma faremo qualcosa di un pochino più movimentato. Comunque cercheremo di accontentare come è nostro solito dai più grandi ai più giovani e balleremo un po' di più del solito. Noi come Proloco cerchiamo sempre di dare al meglio, cerchiamo di allestire e cercheremo di allestire al meglio la piazza per un discorso di sicurezza ma anche per dare un supporto chiaramente al gruppo che suonerà e che canterà nella piazza per tutti quanti e quindi cercheremo di dare uno spettacolo ottimale e speriamo che tutta la gente sia soddisfatta e sia contenta di quello che ci sarà a Fano questo fine anno. Però oltre a questo chiaramente la città ha anche altre iniziative come ad esempio al Teatro della Fortuna con lo spettacolo Cenerentola e al Politeama con il San Costanzo Show. Il 31 dicembre 2022 siamo al Politeama di Fano con uno spettacolo che si chiama Somare di Battaglia quindi dalle 22 alle 23.30 ci sarà uno spettacolo divertente, comico con tutti i personaggi del San Costanzo Show dove ripercorreremo i vari numeri, i vari sketch rivisitati, rinfrescati e ci sarà anche il musical più corto del mondo tra l'altro. Poi alle 11 e mezzo, 23.30 si va tutti fuori nel foyer anche in piazza, in strada, si festeggia, brindisi, a mezzanotte qualcuno del San Costanzo Show insieme a chi vorrà degli spettatori andrà in piazza a festeggiare insieme a tutta la cittadinanza, insieme agli eventi che ci sono nella piazza di Fano e poi si ritorna verso le mezzanotte e mezzo in teatro per finire, concludere e ricominciare lo spettacolo fino all'una e un quarto. E dobbiamo riempire soprattutto perché Bertulli è arrivata la bolletta dell'Enel. Esatto, Bertulli è uno scherzo e quindi aiutate Bertulli. Com'è la bolletta Davide? È alta, è alta. A proposito di bollette, il caro Energia non ha spento la pista di pattinaggio, un divertimento a cui quest'anno tanti comuni hanno rinunciato per contenere le spese, mentre Fano può contare su una pista a costo zero grazie a un accordo con il gestore dell'impianto. C'è la possibilità di sfruttare, che peraltro ci sarà anche per tutto il periodo fino all'8 di gennaio, la pista di pattinaggio dove la gente potrà tranquillamente divertirsi e magari aspettare la mezzanotte facendo una pattinata in amicizia e in allegria, visto che comunque sta riscuotendo anche molto successo.